il segretario del Partito Socialista il Presidente mai faranno accorti con questo ciarpan e amministrativo che tutto si può definire tante persone che era a prevenire i limiti di regionale con la questione del prize che il solito spotto di questa manifestazione che ci inderda solo relativamente a capire il senso di gente serie che vede in comunità di quantità io mi auguro che almeno loro abbiano aperto gli occhi che si giocano interessi nostri e tutto si vuole fare i planning e risolvere il progetto. Non alimentare il consenso verso questa parte della società malata, che ad ora vi avrà ancora di capire che di cui abbiamo già addirittura attività delle diverse realtà e che noi personalmente pensiamo che debba stigmatizzare non solo i luoghi e i luoghi che stiamo facendo adesso, ma è stato un po' finissimi, quindi anche alla procura della Repubblica, a partire di un organismo competente, spiegarsi perché andiamo ad un momento di fare la vostra politica. Il Candaniello è il singolo dittatore, la sconfitta politica di questa città, la vedete dal pericolo che abbraccia l'Ucicina e Mazzina a Michele. Basta andare lì per capire anche il livello di altro, in realtà. Perciò mi auguro che tutti i giovani abitare questa risposta, non è stata abita con le vite e le giorni di un bravo di Dio. Se ne vi comunque non trefere, ma anche il giorno di questa città rappresentante, quindi da questo momento ci sono i miei allenatori di questa città. Grazie.